Un cordiale saluto da parte di Stefano Boscareolo. Oggi riprendiamo la rubrica iNews, siamo praticamente all'interno della nostra sede, la sede dove si svolgono le riunioni, il consiglio e altre assemblee e conferenze che riguardano il volontariato e l'associazione italiana Leucemia. Siamo nella casa del volontariato a Sacile e questo spazio lo volevo dedicare brevemente e tanto che non lo facciamo per raccogliere un po' quelle che sono le nostre idee e soprattutto le nostre prospettive e programmi per il futuro. Ma prima di parlarvene ho il piacere visto che è transitato da queste parti l'amico volontario Vincenzo Sansalone e l'ho pregato di fermarsi per chiedere alcune cose. Abbiamo la voce diretta a testimonianza di uno dei tanti volontari che girano e operano all'interno di questa nostra associazione. Ringraziandoli tutti di cuore veramente per quello che fanno e soprattutto scusandoci perché non possiamo dare a tutti visibilità ma nel confermare la nostra mission anche mediatica televisiva è quella di informare più che di apparire. Infatti molti non vogliono apparire proprio per questo motivo, proprio per apparire ma io spiego loro che non è un apparire e soprattutto attraverso la loro testimonianza comunicare nei diversi ruoli ciò che fanno quotidianamente per l'associazione ma soprattutto verso le persone che ne hanno veramente bisogno e sono meno fortunate. Bene Vincenzo io ti ringrazio di essere qui ai nostri microfoni, alla nostra sede e a te rivolgo subito una domanda che di solito si fa normalmente alle persone che transitano intorno alla solidarietà e al volontariato. Qual è stato il motivo principale che ti ha spinto a unirti a questo gruppo meraviglioso? Intanto per aiutare chi ha bisogno, poi qui nell'Aile io avevo provato con altre associazioni però ho visto che parecchi presentavano dei problemi, io mi sono presentato all'Aile praticamente la sera, la mattina dopo mi hanno messo su un furgone a portare una bambina a Trieste che doveva andare a fare la chemioterapia e mi è piaciuto subito questa sinergia, subito si fanno le cose senza tante chiacchiere e ho capito quasi da subito che era una cosa che funziona, purtroppo c'è bisogno, io spero di non dover fare niente perché questo vorrebbe dire che non c'è tanto bisogno e c'è poca gente che sta male, comunque era per questo qua, aiutare gli altri visto che ho il tempo disponibile e niente, ho disponibilità di tempo e impegnarlo così credo che sia la cosa migliore. Beh, tanto ti ringraziamo perché comunque ricordiamo Vincenzo, sicuramente avete intuito, è in pensione, ma ci sono tanti pensionati che magari non sono come occupare il tempo il discorso di dedicarsi alla solidarietà di chi ha bisogno, la sua premessa era spero che non ce ne sia bisogno, però purtroppo caro Vincenzo e me, qua non soltanto nel nostro settore matologico ma vediamo che il nostro aiuto si rivolge sempre di più anche a persone che non sono coinvolte da questo tipo di malattia perché hanno veramente bisogno qui noi talvolta, e questa è l'informazione che volevo darvi, ci dedichiamo anche prettamente a persone che hanno bisogno in senso generale non soltanto perché sono malati di leucemia, alle famiglie e volevo farvi ascoltare proprio la diretta testimonianza di Vincenzo perché è quello che va tutti i giorni sul terreno, nel terreno anzi che è quello nostro, di nostra competenza e tasta le varie problematiche delle persone un approccio che ha cambiato un po' la tua vita Sì, sì, decisamente, sì, è bello fare qualcosa per gli altri perché ci dobbiamo mettere in testa tutti che potremmo averne bisogno anche noi Beh, questa è un'affermazione che ti fa onore e che noi trasmettiamo veramente a chi ci ascolta un personaggio ha detto io ho quello che ho dato, mi pare fosse San Francesco da questo punto di vista questo fa bene perché tu vieni in un mondo professionale di tutt'altro tipo che non stiamo a dire per riservatezza, però hai scoperto l'umanità e soprattutto un sacco di brave persone e noi vogliamo proprio far parlare queste persone Sì, 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 ma oltre alle brave persone che ci sono qua e là, i volontari e tutti Io devo dire che nella provincia di Pordenone ci ha aiutato tanto la gente comune specialmente nelle campagne delle stelle di Natale, delle uova di Pasqua abbiamo realizzato cose importanti e spero che per le prossime, che la prossima attività sarà la campagna delle uova di Pasqua che stiamo cominciando a organizzare perché sembra di no, ma c'è tanto lavoro dietro almeno di poter confermare i numeri dell'anno scorso perché è stato veramente bello vedere tutta questa gente che anche con un semplice gesto, un uovo di Pasqua è importante per noi perché sanno tutti che l'AIL lavora e funziona grazie alla generosità delle persone non abbiamo sovvenzione statale, si lavora e tutto quello che si fa è grazie alla generosità delle persone Ecco, hai detto bene, approfitto delle tue bellissime e soprattutto confermate parole la gente dona, parto da quest'ultimo presupposto, dona sapendo che tutto ciò che viene donato resta in nostra provincia e questo è importante e credo che da questo punto di vista, e mi permetto di inserirmi e inserirci perché è un gioco di squadra la nostra comunicazione attraverso il video, attraverso il giornalino tipo questo AIL News con Mandelli, vi ricordate, Mandelli l'ha avuto ospite a Pordenone Legge 3-4 anni fa purtroppo è scomparso un grandissimo presidente, ma anche attraverso Destinazione Domani e attraverso il sito, la newsletter, siano informati correttamente, torno a dire, proprio perché hanno capito l'importanza del nostro lavoro e hai sottolineato anche il tipo di lavoro che ricordiamo, le uova pasquale, campione nazionale il 5-6 aprile ma vogliamo dirlo anche, cosa precede tutto questo, perché la gente va nelle piazze sia per le stelle di Natale che per le uova di Pasqua trova un prodotto già realizzato, ma tutto questo dovete sapere, cari telespettatori cari amici, che la premessa è che tutto questo è realizzato attraverso un lavoro improbo certosino di persone che si trovano la sera, ma per settimane prima dell'evento stesso perché c'è una distribuzione nelle varie piazze e sono tutti veramente impegnati anzi noi abbiamo fatto qualche tempo fa una trasmissione proprio riguardante questo lavoro del confezionamento delle uova di Pasqua, delle focacce eccetera Vincenzo tu sei uno di quelli che partecipa attivamente anche prima di andare nelle piazze nelle piazze poi ci sono le persone che vanno lì, stanno lì volontariamente ma prima di arrivare nelle piazze c'è tutto un gran lavoro, lo vogliamo spiegare ai nostri telespettatori? Bisogna raccogliere i dati di tutti i volontari noi abbiamo penso più di 60-70 postazioni di vendita a capo di ogni postazione c'è un volontario che fa da referente questo qua raccoglie con conoscenze, amicizie e in altri modi, non li conosco tutti raccoglie un numero per non sprecare la roba perché se compriamo, faccio per dire mille uova di Pasqua quantomeno 980 le vorremmo vendere poi sei di più per non sprecare la roba quindi poi tutti questi dati vengono raccolti qua in sede bisogna trovare una ditta, qualcuno che ci fa queste robe qua a trattare sui prezzi ovviamente preparare tutte queste uova comporta un certo lavoro poi dobbiamo andare a ritirarle nell'industria che le fa portarle in magazzino e cominciare a fare le suddivisioni per i vari paesi, le cittadine la distribuzione, confezionare preparare tutte le carte perché per ogni postazione poi viene rilasciata un tipo un documento che dice me ne avete portate tante ricevute, tante vendute per tanti soldi perché magari qualcuno lascia qualcosina in più come donazione del costo dell'uovo e tutto quanto va documentato perché Laila quando ho visto cerca in tutti i modi di essere più trasparente possibile perché sentiamo tante cose e dice ho fatto una donazione a X e non si sa cosa è stato realizzato con questa donazione Laila quello che realizza lo vuole pubblico e dice noi abbiamo raccolto tanti soldi e tanto ne abbiamo spesi così la gente sa dove sono andati a finire questi soldi ed è giusto che sia così è fatto bene a precisare questo importante punto perché tra numerosissime iniziative che fanno a fin di bene e ringraziamo tutti quanti a livello regionale nazionale ci sono anche delle associazioni che magari non hanno questa filosofia e la gente è un po' diffidente nel nostro caso appunto attraverso la comunicazione vogliamo proprio far capire la nonestà e la trasparenza nel nostro operato e soprattutto il risultato delle donazioni vanno a conglobarsi in progetti ben quantificati e ben concreti ed efficaci e tal proposito vi ricordo che il 17 febbraio presso il chat di Brenci sarà il pranzo lo chiamiamo sociale ma non è proprio un pranzo sociale è un pranzo particolare tra amici e viene fatto ogni anno dove si raccolgono tutti questi quelli che vogliono venire e sono tanti si parla di 300-400 persone a condividere un momento culinario che serve non solo per stare in compagnia ma anche dove il presidente Aristia Colombera porterà naturalmente alla platea agli ospiti che sono venuti intervenuti l'aggiornamento dei programmi eseguiti dei conteggi e anche soprattutto il rendiconto annuale ma anche nel 2018 di quello che si riuscirà a fare poi successivamente tra queste cose vi devo dire che una delle novità sarà che la pedalata di San Michele questo lo diciamo in maniera ufficiosa da parte anche del presidente avrà convogliata in un'iniziativa che non sarà più pedalata sempre nel ricordo di Cristian Davide ma sarà conclobata in un discorso di un altro evento ma avrà come movimento la camminata e non più pedalata quindi questa è una delle novità poi ce ne sono tante altre che vi daremo o vi porteremo a conoscenza nell'arco delle nostre rubriche o con il giornale o con il sito che sono molto molto interessanti sono reduci da poco una parte del consiglio dal congresso nazionale di Roma dove si è parlato di volontariato di corso di formazione si è parlato dei 50 anni dell'AIL dove ci sarà una mostra a livello nazionale dove in questa mostra verrà anche conglobata e inserita una parte del movimento dell'AIL di Pordonone della nostra sezione portonese che è sottoscritto provveduto poi a inviare ai colleghi di Roma quindi come vedete tante cose interessanti e altre bollare bollire bollano in pentola grazie Vincenzo per il supporto letterario e vocabolario Vincenzo è un grande ve lo dico subito perché è sempre pronto è tempestivo ma soprattutto molto efficace come lo sono in gran parte e tanti altri perché quello che ci contraistingue qua è proprio l'efficacia e portare a termine il risultato l'assistenza domiciliare pediatrica altra notizia continua contrariamente a quello che si dice voi volete dare una mano avete il conto corrente dell'AIL dove versare per l'assistenza domiciliare pediatrica abbiamo sempre i due medici specializzanti che continuano abbiamo un fisioterapista insomma tante tante cose che vanno a realizzare sono realizzate soprattutto grazie al vostro contributo credo che l'ultima parola di saluto Vincenzo prima di chiudere il nostro spazio vi ricordo anche che abbiamo una nuova figura in segreteria che è la Katia Pessotto che ringraziamo per il suo inserimento come ringraziamo Doris Teridda per il suo lavoro fatto e che resta sempre all'interno dell'AIL anche nel consiglio per problemi sui personali ha dovuto un po' delegare questo ruolo e lasciare a questa new entry che prendiamo con molta e accettiamo con molta entusiasmo e con molta spirito di collaborazione come è nella nostra filosofia e nella nostra mission a te la parola finale caro Vincenzo continuate ad aiutarci che ce n'è bisogno e se c'è qualcuno che ha qualche mezza giornata disponibile sa dove trovarci qua a Sicile che abbiamo bisogno di autisti perché ce n'è alcuni volontari di vecchia data cominciano a essere anziani e fanno un po' fatica a guidare per lunghi tratti perché a volte dobbiamo andare a Trieste è successo qualche volta che si va fino a Bergamo per delle cure particolari di qualche malato se qualcuno vuole venire ad aiutarci è il vero benissimo l'ultima continuate ad aiutarci come l'avete fatto sempre mi raccomando per la campagna delle uova di Pasqua grazie Vincenzo io credo che queste tue sacrosanti e validissime parole e pensieri siano il miglior viatico per continuare ma soprattutto per chiudere anche questa trasmissione in bellezza soprattutto con un senso di moralità e di profonda sensibilità ti ringrazio per averlo fatto a nome personale ma anche a nome di tutto l'AI perché ricordiamoci che il trasporto da casa per le aziende ospedaliere e le cure medicali sono un aspetto importante forse non è sufficientemente sottolineato ma è una gran parte del lavoro che fanno i volontari e grandissimo aiuto alle famiglie con i mezzi che mettiamo a disposizione due sono già in pediatria dei automobili una è qua presso la nostra sede ricordiamo la sede casa del volontariato chi vuole venire a trovare c'è una segreteria tutti i giorni aperta e vi aspettiamo per un aiuto come detto Vincenzo grazie ancora da vostro Stefano Boscheroli a risentirci al prossimo appuntamento con iNews e Teleporta 9 saluti arrivederci arrivederci grazie a tutti grazie a tutti